Harry e Meghan Dimmi qualcosa di autentico Non mi importa che la mia vita sia un perfetto quadretto reale Voglio solo te La loro storia diventa un film Il loro amore raccontato in una favola Che non è mai stata così reale In anteprima e in esclusiva Harry e Meghan Venerdì in prima serata Canale 5